Tasso di crit, danno di crit, vai. Devi stare fermo. Ecco qua. Bello fermo, non fare nulla. Bello fermo, non fare nulla. Dai, fermo! Non l'ho beccata. Ok, stavolta sì, però ti ha mosso. Ma che è finita. Buon. Abbiamo perso un po' di tempo perché è salito su. Ora devo fare attenzione a non perdere tempo. Perché ce la possiamo fare. Ora, voglio fare una robina. Forse è stata una buona idea farla così. Veo un caso un po' di danno. Sì, è stata un'ottima idea. Allora... Allora... Allì sono morti, sì, uno no. Dai, dieci secondi, cavoli! Vedi che è stato difficile, vedi che è stato difficile perché avevano gli scudi elementari, devi fare counter e io l'unico elemento per farlo è Electro, quindi va bene. Tasso di crit, hanno di crit, sì, l'unica carta utile. Devi stare calmo, però. Ok, allora, con calma. Eh dai! Ok, questo è l'ultimo. Sì. Buono. Non dovremmo avere difficoltà da questa parte. 392. Eh, stavolta è sceso il danno. Tra l'altro Raiden stava crepando malissimo. Cioè, siamo passati da 390 a 200, 100, vabbè. Ce l'abbiamo fatta comunque, dai. Ricarica di energia. Abbastanza inutile, se mi permetti, però va bene. No, 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 no. Dove sei? Mi fai perdere tempo così. E poi devi prendere pure bene la mira. Non è che dici, li fai tranquillamente, sti passaggi. No, non tanto, non mi hai spaventato. Sì, siamo già arrivati alla fine. Fantastico. Ok, buono, abbiamo un minuto e mezzo, poco più. Forza Raiden, che la portiamo a casa. No, mi hai fregato. No, mi hai fregato. No, mi hai fregato. Non so quanto gli ha fatto Ma gli ha colto un quarto di vita Cavole Cavole Va bene Anche questa sessione di Spare da Vince è andata Abbiamo confermato i team dell'altra volta Quindi niente di nuovo Però come si dice sempre Squadra che vince non si cambia E insomma Alla faccia di chi parla male di Mr. Mocassino Baiju Top Tier Metal Grazie a tutti